L'alternativa non può che essere, se non si dovesse cambiare, l'aumento dell'insieme delle tassazioni, però dato che c'è un'indicazione che condividiamo, che viene dalla manovra di stabilità, che le tasse si riducono, noi vogliamo essere coerenti con queste indicazioni e quindi non solo non vogliamo aumentarle, ma vorremmo concorrere a ridurle, però dobbiamo essere messi in condizioni di fare.